Ok, adesso vi spiego i prodotti che ci vogliono per questo piatto. Ci vogliono delle cipolle rosse di Tropea, dei verdi di cipollotti, della cipollina fresca, del sale leggermente grosso, poi dei rapanelli e del peperoncino. E' un limone fresco. L'avvocato e il tonno mediterraneo. Ora vi spiegherà, che prodotti usano. Qui vedete, cipolli, 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 ok prima una